Buongiorno e bentornati e buona domenica, sono proprio contento di rivedervi qui sul mio canale. Oggi abbiamo un sacco di prodotti interessanti, secondo me, da poter visionare insieme e da capire se potranno poi diventare davvero dei prodotti interessanti anche da acquistare. Prima di iniziare però vi dico come sempre che il video è diviso in capitoli, quindi adesso magari ve lo guardate tutto, se vi va lasciate anche un buon like perché per me è un supporto importantissimo. Poi quando vi dovete cercare i prodottini, taccavete i capitoli, saltate da uno all'altro per avere il massimo della comodità, spero sia cosa gradita. Vi dico anche che molti dei prodotti che vedrete probabilmente sono già in offerta sul mio canale Telegram. L'altro giorno c'era addirittura un MacBook Air con chip M1 a 840 euro giù di lì che è un'offerta incredibile, quindi mi raccomando iscrivetevi al mio canale Telegram anche perché ci stiamo avvicinando al Prime Day di Amazon e lì vedremo probabilmente alcune offerte ancora più scopiettanti. Detto questo direi di partire con il primo pacco che in realtà è un pacchettino ma molto importante perché lo aspettavo da parecchio e sicuramente anche molti di voi saranno interessati al nuovo Moero nella versione Pro. Sì anche Moero si adegua e aggiunge un prodotto Pro alla sua line up. Il concetto è sempre lo stesso, la filosofia è sempre la stessa, parliamo di un portafoglio compatto con portacarte in metallo, protezione RFID, levetta metallica e un sistema brevettato proprio da Moero, quindi unico. Rispetto ai vecchi modelli cosa ha in più il Moero Pro? Beh, quello che vedete, cioè la chiusura magnetica. Sostanzialmente non serve più chiuderlo con la clip, ma vi faccio vedere il modello normale così capiamo le differenze. Eccolo qua, questo è il classico Moero, vedete c'è la chiusura con il bottone automatico quindi va fatta manualmente. Qui invece c'è una chiusura con due magneti che vanno ad attaccarsi al portacarte. Altra differenza è questo rivestimento in materiale vellutato del portacarte probabilmente per agevolare la chiusura e fare in modo che non sbatta ogni volta che va a chiudersi e cambia leggermente anche la parte relativa al portafogli che qui è in pelle invece che in materiale plastico. Ma rimane la possibilità di averlo con zip, quindi per poter mettere delle monete all'interno io di solito ci metto una AirTag così posso tracciare tranquillamente il mio portafogli. Direi bella sorpresa questo Pro, mi piace un sacco anche perché alle volte quando hai una mano sola e sei lì che paghi magari tieni qualcos'altro in mano il fatto di poterlo chiudere, tac, semplicemente in maniera magnetica invece di andare a spingere il pulsantino è sicuramente una comodità aggiuntiva. Naturalmente anche in questo caso è possibile scegliere il portacarte, le colorazioni, le finiture di pelle questa è la pelle saffiano che è praticamente indistruttibile, l'avevo vista direttamente a Napoli in laboratorio ed è una cosa particolare ma potete scegliere le finiture che volete e sappiate che anche per il Pro vale il mio codice sconto MANUEL10 che vi dà diritto a un 10% di sconto su tutti i modelli. Quindi se siete interessati all'acquisto vi lascio il link naturalmente qui sotto in descrizione. E andiamo con un altro pacco che arriva direttamente da Amazon Ok, un proiettore portatile, può essere interessante adesso in estate. Ok, telecomando, cavetteria varia e cavo di alimentazione ed ecco qui il proiettore, ma sembra anche abbastanza carino c'è persino la sua maniglietta in pelle perché ovviamente è un proiettore portatile anche se non è di quelli dotati di batteria quindi va sempre alimentato vedo che qui sopra ci sono un po' di tasti, accensione e probabilmente navigazione all'interno dei menu mentre qui sotto ci sono un po' di porte HDMI, audio video, cuffie e porta USB oltre che un ricevitore infrarossi. Alimentazione e qui c'è il suo copri obiettivo. Parliamo naturalmente di un prodotto estremamente economico 720p con wifi ma senza sistema operativo. Diciamo che potrebbe essere un'alternativa se volete crearvi un piccolo cinema a basso costo magari in giardino o quando andate in campeggio o in qualsiasi altra occasione di aggregazione purtroppo quest'estate non ci saranno i mondiali per vedersi le partite ma insomma ci collegate una chiavetta, vi guardate Netflix o mandate direttamente lo streaming dal cellulare. Io naturalmente vi lascio il link qui sotto in descrizione così vi andate a vedere il prezzo, le caratteristiche e come sempre deciderete voi se può fare al caso vostro. Mi fermo un attimo per una piccola riflessione perché ieri girando un po' su YouTube mi sono accorto di quanti video ci siano dedicati a come recuperare il proprio account Instagram o Facebook hackerato. Evidentemente sì, c'è un sacco di gente che si fa hackerare l'account quindi immagino siano video utili ma mi chiedo, non sarebbe meglio evitare direttamente di farselo hackerare questo account magari utilizzando una password molto sicura e sempre diversa per ognuna delle decine di account che alla fine possediamo beh sì, in effetti è semplice a dirsi, meno facile a farsi se non si utilizzano però gli strumenti giusti cioè un gestore di password io ad esempio utilizzo NordPass perché più che un gestore di password è un vero e proprio tool per evitare cyberfrodi qual è il vantaggio? Semplice, NordPass gestisce e sincronizza le password di tutti i nostri account con un'unica password e il nocciolo da questione sta tutto qui basta un'unica password molto forte da ricordare e il resto pensa lui e non solo conserva le password ma le sincronizza su tutti i dispositivi che possedete quindi ad esempio quando voglio entrare su Netflix da smartphone posso farlo da NordPass se cambio le password sul mio Spotify su iPhone poi le troverò aggiornate anche sul computer e così per tutti i miei servizi comprese le carte di credito note sicure con magari le domande segrete quelle dell'app della banca ma una cosa che adoro in particolare è il generatore di password sicure fondamentale per non usare sempre la stessa password o peggio ancora password con dati semplici da ricavare il bello è che già nella versione gratuita ci sono le funzionalità di base sufficienti per utilizzarlo se volete tutte le funzionalità, quelle premium beh vi posso dire che ho un mio codice sconto esclusivo sul piano biennale con un mese aggiuntivo nel regalo semplicemente dal link che vi lascio in descrizione oppure inserendo il codice Manuel Agostini al checkout e avete pure 30 giorni di soddisfatti o rimborsati datemi retta, provate, NordPass iniziate a proteggere le vostre password prima che sia troppo tardi è arrivato anche questo doppio paccone molto bene è arrivato un Sonos il Sonos Rom questa è nella nuova colorazione che sono andato a vedere direttamente a New York se mi seguite su Instagram sapete che a maggio sono stato a New York proprio a vedere i nuovi prodotti di Sonos e finalmente li ho qui per provarli questo è uno speaker portatile incredibilmente completo come vedete anche dalla scatola compatibile con Alexa, con Ok Google e naturalmente anche con Airplay di Apple wow bellissima anche la confezione con tutto quello che serve cioè il cavetto USB-C per l'alimentazione manualetto ma guardate quanta cura nell'avvolgere il ROM in questo panno ed è davvero piccolo e molto carino mi piace un sacco questa colorazione che definirei rosso corallo ed è proprio questa la caratteristica nuova di questi ROM perché il prodotto è il medesimo che era già in commercio Sonos ha semplicemente implementato tre nuovi colori il rosso, il verde e l'azzurro bel prodottino perché è Bluetooth, è Wi-Fi è IP67 quindi perfetto lui verrà sicuramente con me nelle gite estive probabilmente anche in vacanza proprio perché non teme nulla e può essere l'ottimo compagno per ascoltare musica un po' ovunque quindi molto molto bene ma Sonos a New York ha presentato anche un prodotto completamente nuovo ed è il Sonos Ray, la soundbar entry level di Sonos e sono sicuro che questo sarà un prodotto che interesserà tantissimi perché a 299 euro ci si porta a casa una soundbar di Sonos Wi-Fi con parecchie caratteristiche interessanti è disponibile sia bianca che nera io ovviamente l'ho scelta bianca poi vedremo anche il perché anche in questo caso confezione molto molto curata l'esperienza di unboxing è sempre importante quando si comprano prodotti del genere ed eccola qua guardate che bella che è nella sua colorazione bianca col design tipico pulito di Sonos bellissima qui sotto c'è un led e qui sopra ci sono i tasti touch per andare a comandarla manualmente poche connessioni solo alimentazione cavo ottico e porta ethernet ma adesso vi faccio vedere dove la metterò io allora ho posizionato la soundbar qui in stanza da letto sotto il televisore questo è un Samsung da 55 pollici e come vedete il bello di questa soundbar sono proprio le dimensioni compatte e anche questo design leggermente a cuneo che permette appunto di posizionarlo in maniera facile con qualsiasi televisore a prescindere dai piedini che possa avere anche in questo caso abbiamo una base sporgente ma la soundbar ci sta dentro alla grande questo è uno dei valori aggiunti di avere una soundbar così piccola entry level e anche economica che però in setup di questo genere è poco pretenzioso come può essere ad esempio una stanza da letto che è da circa 15 metri quadri 15-16 metri quadri una soundbar del genere è più che sufficiente la mia personale rivoluzione è l'uno e soltanto lui che dà forza e potere alla nostra famiglia non c'è da sbagliare una faccenda il bello è che essendo un prodotto Sonos così come la piccola Roam è tutto all'interno della sua applicazione tutto è wifi quindi può essere integrato sia in un'ottica di audio multiroom ma anche semplicemente per streammare la propria musica sia con Airplay che tramite Alexa unica piccola pecca è che non sono riuscito a configurare il telecomando per il controllo del volume sulla soundbar è un telecomando Samsung quindi in teoria dovrebbe essere compatibile non è così immediato devo studiarmi un attimino la procedura molto interessante invece la piccola Roam perché è uno speaker wifi quindi all'interno dell'applicazione con gli stessi vantaggi di tutti i prodotti Sonos però come vedete sta tra le mani quindi può essere portato un po' ovunque alla batteria ed è molto molto comodo soprattutto ora in estate in un'ottica appunto di ascoltare la propria musica anche in mobilità ok altro pacco bene 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 è arrivato un prodotto che aspettavo parecchio sono molto molto curioso è un prodotto di Whitenings ed è lo Sleep Analyzer cos'è? ve lo faccio vedere questo è un prodotto che io miravo da tempo perché sono molto molto interessato a capire e analizzare come dormo perché vi capita che ogni tanto magari dormite anche 8-9 ore però vi svegliate comunque stanchi, affaticati ecco questo probabilmente perché non si è dormito bene ma bisogna capire il perché non si dorme bene colpa dell'apnea io ad esempio come sentite soffro di allergia si russa, non si russa ecco tutte queste cose possono essere analizzate da questo apparecchio di Whitenings che come vedete è praticamente una fascia qui dentro c'è tutta la parte diciamo elettronica infatti esce il suo cavo questo va messo sotto il materasso non serve chissà quale compatibilità va messo sotto il materasso va scaricata l'applicazione e lui inizierà a monitorare tutte quelle che sono le fasi del sonno la frequenza cardiaca se si russa, se si va in apnea crea un report che poi può essere anche esportato e volendo dato anche ad un medico o comunque a qualcuno che possa analizzarlo con un pochino più di competenza ma ve ne voglio parlare sicuramente in un video di Gadget Tech dove vi farò vedere effettivamente come funziona i dati che riesce a raccogliere e se sono soddisfatto o meno da questa nuova implementazione ma nel frattempo lo vado a posizionare e nei giorni scorsi mi è arrivato anche lui il Black Shark 5 Pro devo essere onesto l'ho già aperto l'ho già acceso perché ero troppo curioso di scoprire questo smartphone da gaming molto molto tamarro già si vede dalla confezione ma così deve essere uno smartphone da gaming con caratteristiche elevatissime perché ha un processore snapdragon di ultimissima generazione raffreddamento a camera di vapore display da 144 hertz e un sistema di ricarica 120 watt che vi porta da 0 al 100% in 15 minuti così come interessanti sono alcune soluzioni dedicate proprio al gaming come i trigger fisici estraibili eccoli qua che poi possono essere configurati durante i giochi c'è tutta una sezione da gaming in cui poter andare a spingere le prestazioni di questo smartphone al limite ma c'è anche questo interessante LED sul posteriore posteriore anche in questo caso molto tamarro con questa grafica però di ottima qualità perché è vetro che non raccoglie le impronte e all'interno c'è questo LED che può essere personalizzato sia a livello di colore che di utilizzo per le notifiche o per qualsiasi altro evento tripla fotocamera in generale un dispositivo che proviene dalla famiglia di Xiaomi ed è dedicato proprio unicamente al gaming indubbiamente un bel giocattolone se giocare a giochi mobile è il vostro hobby preferito vi lascio il link questo me l'ha mandato Aliexpress c'era anche una promo nei giorni scorsi se l'hanno allungata ve la lascio sotto se no vi lascio unicamente il link ok è arrivato un pacco da Ecca ve ne avevo già parlato in un video precedente è uno store online come possono essere altri store che ci sono sul mercato cinese che si è affacciato sul nostro mercato con alcuni prodotti il catalogo non è ancora completissimo vi avevo già detto nel video che stanno cercando di migliorare nelle spedizioni che non sono velocissime però hanno pagamento con Paypal quindi se volete acquistare da loro avete un minimo di pazienza siete comunque piuttosto garantiti vediamo cosa c'è in questo pacco oh yes questo è l'avvitatore elettrico di Xiaomi o per meglio dire di Mijia io adoro questo tipo di prodotti intanto perché arrivano sempre in una confezione super completa e poi perché funzionano bene e hanno un design fantastico guardate che bello ho anche qui l'organizzazione di tutto con il suo carica batteria purtroppo è in versione cinese cavo USB-C e quindi questo è ottimo perché potete utilizzare un alimentatore dello smartphone senza problemi il suo contenitore con una serie di punte sia per avvitare ma anche per trapanare perché questo è anche un trapano guardate qui c'è una discreta dotazione di punte con anche la sua prolunga e che bello che è a livello di design è un prodottino che mi fa impazzire per quanto siano capaci di fare anche attrezzi da lavoro belli sia da tenere in mano perché questa è una superficie gommata sia da guardare molto molto bello c'è anche il suo display cosa che sul trapano non si trova così di consueto bellissimo qui c'è tutta guardate una rotella che permette di andare a aumentare o diminuire quella che è la forza ci sono diverse modalità manuale, automatico si può utilizzare sia come avvitatore che come trapano vi dicevo questo è il classico attrezzo che secondo me va tenuto in casa per quei lavoretti al volo dove non serve avere un super trapano magari di quelli della Bosch ma basta qualcosa di piccolo di portatile tac magari attacchi uno scaffaletto qualcosa deve avvitare un mobile qui hai tutto tutto ordinato tutto pulito un ottimo oggettino bello sono proprio contento molto molto contento ah e mi hanno mandato uno smartwatch voi sapete io non vado pazzo per questo tipo di prodotti ma mi rendo conto che abbiano comunque un mercato ecco vedete per quanto mi sono casato per quel prodotto lì di Xiaomi quanto non riesco a entusiasmarmi per questi smartwatch che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano perché sono economici hanno una qualità diciamo discutibile lo si vede anche dal display vi ricordate tempo fa avevo fatto vedere un altro smartwatch economico ma era sicuramente migliore anche a livello di display qui siamo veramente cioè si vedono addirittura i pixel è una cosa molto molto economica non mi sento di consigliarvi questi prodotti a basso costo ma in ogni caso io vi lascio il link dovete sempre essere voi a decidere io vi do quelle che sono le mie impressioni in merito poi ognuno come sempre deciderà per sé fatto sta che questo è l'altro prodotto il trappano elettrico di Xiaomi lo trovate sul sito di Ecca vi lascio il link in descrizione vi ho già detto quali sono i pro e contro cercate un attimino di utilizzare le cose giuste e fare gli acquisti come si deve pacco che arriva da FedEx oh yes questa busta nera già mi dice tanto perché arriva dai miei amici di Arber London ok questa è una borsetta in pelle e che pelle che qualità io scelgo poi sempre questa colorazione che è la Tan bellissimo a mio parere profuma e emana qualità a sia al tocco che all'occhio davvero fatta molto molto bene come tutti i loro prodotti questa è una borsettina per l'iPad perfetta per l'estate perché è super super compatta c'è la sua cinghietta a tracolla e qui una serie di tasche infinita voglio farvela vedere bene come sempre loro utilizzano un sistema magnetico per chiudere le tasche questa è la versione per contenere un iPad fino a layer da 11 pollici che è quello che utilizzo io c'è il suo portachiavi col moschettone ci sono insomma un po' di cosette molto molto bello non c'è niente da fare adoro questi prodotti sono anche forse un po' troppo entusiasta però mi sono trovato bene in passato e quindi non posso che davvero parlarne bene certo costano un pochettino perché ovviamente sono prodotti di qualità ma Arber London mi ha dato un 20% di sconto per voi quindi utilizzate il link che vi lascio qui sotto e avrete un 20% che non è niente niente male ok è arrivato un pacco molto grande lo apro qui in salotto perché è sopra è un pochino più problematico wow devo dire si nota tantissimo questa è una valigia level 8 vi avevo già fatto vedere un paio di trolley trasparenti hanno delle bellissime valigie piuttosto estrose ma mi piace un sacco questa colorazione bicolor gialla e nera l'ho scelta appositamente così perché altrimenti sono sempre un po' noiose le valigie la particolarità di questo modello è che ha guardate il manico ultra largo la prima volta che lo vedo però questo permette di manovrarla ancora con maggiore precisione perché si fa meno leva sul manico e quindi anche quando c'è del peso non c'è quel solito basculare tipico di questo tipo di valigie doppio manico sia in verticale che in orizzontale questa è una valigia che va in stiva e quindi c'è anche la sua bella combinazione numerica singola perché la chiusura è a zip con apertura TSA fondamentale se fate vacanze negli Stati Uniti perché devono avere la possibilità di aprirvi la valigia senza sapere la combinazione altrimenti ve la spaccano ed è con guscio diciamo semi rigido quindi non è nemmeno particolarmente pesante è abbastanza leggera quattro rotelle una cosa che mi piace molto delle loro valigie è questa disponibilità di retine e di tasche perfette ad esempio qui c'è già uno scompartimento trasparente per mettere i liquidi gli shampoo e tutto senza doverlo tirare fuori dalla valigia devo essere onesto mi piace tanto questa valigia di Level 8 mi piace sia a livello estetico che funzionale molto molto carina ma vi lascio il link in descrizione perché può essere molto molto utile adesso in ottica di vacanza ok e siamo arrivati credo all'ultimo pacco sì credo di sì e allora o non arrivano mai o arrivano tutti insieme gli smartphone ne è arrivato un altro un top di gamma di ZTE l'Axon 40 Ultra wow 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 questo è l'ultimo flagship dell'azienda guardate che comparto fotocamere davvero impressionante sapete cosa vi dico non è mica male questo Axon 40 Ultra di ZTE molto bello sia dal punto di vista della qualità costruttiva con queste tre fotocamere da 64 megapixel ma anche a livello di bordi e display praticamente borderless io non amo i display curvi ma devo dire che questo design in particolare mi sta affascinando molto come vedete la fotocamera è annegata sotto il display quella frontale e a livello estetico ci guadagna tantissimo perché praticamente non ci sono notch non ci sono puntini non ci sono fori molto molto pulito allora dovrei mettermi in politica e far vietare i tosa erba a motore ma porca miseria non possono utilizzarli elettrici qui ogni mattina c'è qualcuno che fa rumore tra l'altro fa una puzza di inquinamento incredibile comunque detto questo devo dire anche che la fotocamera è ricca di funzionalità street pro foto e soprattutto c'è la possibilità di andare a zoomare 140 mm guardate che zoom pazzesco niente niente male devo dire lo sapete gli smartphone non mi fanno gridare di entusiasmo non ne provo tantissimi è vero perché secondo me sono tutti ultimamente abbastanza uguali ma questo devo dire ha tirato parecchio la mia attenzione ben ben fatto brava ZTE mi è piaciuto un sacco così di prima impressioni però lo vorrei provare e magari parlarvene più avanti e allora siamo arrivati al termine di questo video di unboxing prodotti secondo me alcuni interessanti che vedrete in maniera più approfondita in altri video nel frattempo spero che insomma qualcosa vi sia piaciuto che abbiate preso spunto che anche solo vi siate intrattenuti per qualche minuto in questa domenica se così fosse sapete già come supportarmi grazie da Manuel Agostini noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube grazie a tutti grazie a tutti